è il posto di merda e beh giudicarsi del decimo posizione penso che sia questione di pochi di continuare a giocare pochi eh pochi punti p e dai pushamoli sti qua ad acqua è quest'area però volevo dire se scendevano da qua andiamo eccoli eccoli vieni dietro vieni indietro ma che uno è sotto la scala centrale ho ciò che c'è lì ah double double kill ti fa ti fa cazzo perché sei andato c'erano due vaffanculo andrei animato sai che cazzo stia qua qua a terra porca puttana sono sotto la scala non ho visti due ci ho provato ma tu sei andato lì chi è? bene perché hai detto porca puttana è perché io li stavo a lanciare la rivale e tu li sai alzare e quello li sai alzare insieme a te hai visto come l'ho ucciso veloce porca miseria jajaja grazie grazie